Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del Tg6 che apriamo parlando della manifestazione che si è tenuta nel pomeriggio a Pescara, partita da Piazza Unione, ora basta, vogliamo mari e fiumi puliti. È accorato l'appello che sale da 52 tra associazioni, comitati, sindacati, associazioni di categoria riuniti appunto nel pomeriggio per manifestare tutti assieme contro l'inquinamento. Vediamo. Fiumi abruzzesi in peggioramento, salmonella diffusissima nelle acque. A lanciare l'allarme è il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua che oggi pomeriggio ha manifestato a Pescara contro l'inquinamento e per chiedere mari e fiumi puliti. Serve risanamento e bonifica dei siti contaminati, unica vera grande opera di cui l'Abruzzo ha bisogno. Noi vogliamo trasparenza, abbiamo chiesto alla regione di creare un sito ad hoc per poter far confluire tutti i dati appunto che riguardano le acque abruzzesi. Chiediamo di partecipare, abbiamo chiesto di un'istituzione, di un osservatorio partecipato anche dalle organizzazioni sociali per sapere quanti investimenti e in che modo si intende programmare il risanamento dei fiumi abruzzesi. Ricordiamo che i nostri fiumi sono in condizioni drammatiche, abbiamo il 70% dei corsi d'acqua di qualità scarsa, abbiamo il 22% dei nostri litorali, delle nostre spiagge a rischio di vieti di balneazione. Siamo qui anche a chiedere lo stop delle captazioni dei nostri fiumi. I nostri fiumi stanno morendo, non hanno più bisogno di captazioni. Noi pensiamo che il risanamento dei fiumi, del mare e dei nostri territori, la bonifica dei tanti siti contaminati sia l'unica vera grande opera di cui l'Abruzzo ha bisogno. Non abbiamo bisogno di strade né di autostrade, né va della salute dei cittadini e dell'economia della nostra regione. Si sono riaperte le trattative tra la regione Abruzzo e la compagnia low cost Ryanair. Secondo il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, il governo avrebbe preso in considerazione la richiesta di rivedere l'aumento della tassazione che avrebbe causato la rottura dei rapporti economici con la compagnia. Tra regione Abruzzo e Mr. Ryan, come lo chiama il governatore D'Alfonso, è arrivato il disgelo. L'annuncio arriva nel corso di un incontro con i rappresentanti del CDA della Saga, il sindaco di Pescara, il presidente della provincia, il presidente dell'azienda unica dei trasporti, il presidente della Fira e altri esponenti del governo regionale. La buona notizia è che Michael O'Leary riapre il dialogo sulla questione dello scalo pescarese che dall'altra parte, Graziano Del Rio, ministro all'infrastrutture, dopo l'incontro avvenuto a Roma, accoglie la richiesta di rivedere la tassazione che aveva causato la dipartita della compagnia di volo. Noi abbiamo due punti fermi, intanto un incontro frontale con chi rappresenta la proprietà di Mr. Ryan e poi un impegno anche del ministro Del Rio a rivedere la posizione del governo per quanto riguarda la tassazione di sua competenza, ma si sta muovendo anche molto la Commissione Europea e gli organi competenti dell'Europa. Io sono convinto che siamo sulla buona strada per trovare soluzioni idonee a questo problema. L'Abruzzo non può fare a meno di un capitolo così importante per le sue infrastrutture, ripete il governatore, dunque tutte le forze e le attenzioni sono rivolte a risolvere in ogni modo la questione. In questo momento in Europa volano ogni giorno qualcosa come 3.000 voli quotidiani. Noi dobbiamo mantenere questa potenza di offerta di connettività, migliorarla, renderla sostenibile economicamente perché è grande parte della competitività economica. Per questo ho chiesto incontro a Mr. Ryan, per questo ho parlato con Del Rio e per questo porterò l'amministratore delegato di Ryanair da Del Rio per fare in modo che ricominci un colloquio produttivo. L'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso annuncia in diretta nazionale che rinuncerà alla prescrizione nel processo dell'Aquila per le vittime del sisma in cui è accusato di omicidio colposo plurimo. Rinuncerò alla prescrizione. Voglio che un giudice riconosca la mia innocenza. Così Guido Bertolaso, ospite del programma Agora su Re 3 in diretta nazionale, ha annunciato la volontà di essere giudicato per il processo Grandi Rischi bis, in cui Bertolaso, in qualità di ex capo della protezione civile, deve rispondere di omicidio colposo plurimo in relazione alla convocazione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo 2009. L'udienza del processo è slittata al prossimo 21 giugno, andando incontro a prescrizione certa del reato, che scatterà il 6 ottobre 2016. La scelta si è resa necessaria, secondo il giudice greco, titolare del procedimento, perché ci sono ben 800 processi affidati a lui in corso di svolgimento. All'annuncio del rinvio dell'udienza, in aula esplosa la rabbia dei parenti e delle vittime del terremoto. Questo processo è una farsa, siamo di fronte a un omicidio di Stato, ha detto ad alta voce in aula Vincenzo Vittorini, presidente dell'Associazione delle Vittime del Terremoto e consigliere comunale. Questo processo non può essere considerato come tutti gli altri. Secondo Vittorini, la Procura ha fatto perdere tempo al processo con tre richieste di archiviazione. Guido Bertolaso ha affermato che rinuncerà alla prescrizione durante una trasmissione in cui era ospite per parlare della sua candidatura a sindaco di Roma per il centro-destra. A incombere sulla candidatura di Guido Bertolaso ci sono due processi, uno per corruzione sugli appalti del G8 della Maddalena che è in corso di svolgimento e il triste processo dell'Aquila per omicidio colposo plurimo delle vittime del terremoto. Sospensione immediata di un'attività, sequestro amministrativo di un locale e sanzioni per oltre 4.000 euro. Il bilancio di una serie di controlli condotti negli ultimi giorni dai carabinieri del NAS di Pescara in centri estetici del Terramano, del Chietino e di Pescara. Nelle strutture era stato ingaggiato un professionista con i titoli necessari per gestire l'attività ma poi ad operare era personale, spesso ragazze, senza alcun tipo di diploma. Le ispezioni hanno consentito di accertare che nelle strutture venivano praticati massaggi in assenza di quanto previsto dalla normativa e cioè del direttore tecnico. Nella struttura del Chietino le ragazze in servizio non avevano i requisiti professionali da estetiste per praticare trattamenti ed è quindi scattato anche il sequestro amministrativo del locale. Nel Terramano per carenza di autorizzazioni il sindaco ha disposto la sospensione immediata dell'attività. A Pescara invece sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 1000 euro. E poi ancora minaccia mamma e nonna con un coltello per ottenere i soldi per comprare la droga. Protagonista della vicenda un 22enne di Penne in provincia di Pescara che ieri sera è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per maltrattamenti in famiglia, estorsione e minaccia. Il ragazzo è stato rinchiuso nel carcere di San Donato di Pescara. La regione Abruzzo ha incontrato i sindacati questa mattina per avviare il percorso di studi e attuazione del patto di sviluppo. Tra i pilastri annoverati spiccano fiscalità, attrazione degli investimenti e politiche per il lavoro. La regione Abruzzo è pronta a varare il patto per il lavoro e lo sviluppo economico. Questa mattina il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ha incontrato a Pescara le organizzazioni sindacali per avviare il percorso di studi e attuazione del patto che, nelle prossime settimane, sarà presentato ufficialmente e sottoscritto tra i principali attori del ciclo produttivo. Il patto ruota intorno a otto pilastri, fiscalità, pacchetto di attrazione degli investimenti, programmazione unitaria dei fondi, politiche attive per il lavoro, accesso al credito, inclusione sociale, individuazione di aree di crisi e legalità. Dopo il confronto di oggi saranno tracciate le linee guida del patto, gli obiettivi generali e specifici, nonché i tempi di attuazione del documento programmatorio. Il documento avrà l'obiettivo di attrarre investimenti e, di conseguenza, generare occupazione nella regione. È necessario snellire la pubblica amministrazione, stimolare l'alternanza scuola-lavoro, favorire formazione, innovazione e ricerca, ma soprattutto è necessario ridurre la frammentazione degli interventi. Cioè, vogliamo creare una sorta di pacchetto chiave in mano per le imprese. Queste le dichiarazioni del governatore d'Abruzzo. Durante questo percorso le organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di svolgere un ruolo attivo e fondamentale per monitorare le imprese che investono sul territorio. Durante l'incontro, infine, sono stati presentati alcuni interventi del patto per il lavoro e lo sviluppo economico. 47 milioni di euro saranno destinati all'implementazione di politiche attive del lavoro all'assegno di ricollocazione, al potenziamento del sistema regionale della formazione al fine di puntare allo sviluppo del capitale umano come fattore di competitività del sistema Abruzzo e al programma degli investimenti legati ai fondi comunitari e al masterplan. Il Movimento 5 Stelle di Pescara denuncia una grave carenza da parte dell'amministrazione comunale. Manca infatti il piano anticorruzione 2016-2018, la scadenza era fissata per il 31 gennaio scorso. Manca il piano anticorruzione al comune di Pescara. La data di scadenza per presentarlo era il 31 gennaio scorso e ad oggi nulla è stato prodotto. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle che dopo diversi controlli mette in luce anche la mancanza di trasparenza sulle pubblicazioni del sito ufficiale del comune che viene messa a confronto con quello di un comune virtuoso, quello di Lucca. Da qui l'idea di istituire una commissione ad hoc che vigili costantemente. Chiediamo un consiglio straordinario sul tema dell'anticorruzione e soprattutto una commissione di anticorruzione e trasparenza perché riteniamo doveroso e necessario intervenire nel comune di Pescara. Abbiamo fatto infatti un'analisi e abbiamo evidenziato che moltissime delle direttive, delle indicazioni date dall'ANAC che all'autorità nazionale dell'anticorruzione non sono state rispettate nel comune di Pescara. Manca ad oggi, nonostante la scadenza del 31 gennaio, il piano appunto triennale di prevenzione alla corruzione. Manca il piano della trasparenza, manca il piano della performance, mancano moltissime delle azioni e delle misure correttive proprio per evitare il rischio corruttivo e noi vogliamo attraverso questa commissione, portando anche il tema in consiglio comunale, invece attivare una tolleranza a zero alla corruzione con un giro di vite estremamente forte e stringente. Tra le carenze annoverate dai grillini c'è la mancanza di rotazione dei dirigenti, l'attività di formazione sulle attività di anticorrezione e inoltre, sottolineano i consiglieri 5 Stelle, secondo l'ANAC per corruzione si intende ormai un più ampio concetto che viene riassunto con cattiva gestione, quindi tutte le attività che formano la cosa pubblica. Quelli legati al conflitto di interesse, all'incompatibilità dei dirigenti, alla trasparenza, agli incarichi, ai tempi dell'amministrazione, appunto ai tempi delle procedure amministrative. Sono quelle aree che l'ANAC appunto sottolinea come critiche, come strategiche e sulle quali dobbiamo intervenire. Ci sono una serie di indicazioni che devono essere rispettate e noi pretendiamo che vengano rispettate. La piaga dell'evasione fiscale resta il problema principale per i giudizi tributari all'Aquila come nel resto d'Italia. Vediamo. Rispetto allo scorso anno c'è la positiva novità dell'inaugurazione del restaurato Palazzo di Giustizia in via 20 settembre. Inizia così l'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario del 2016 nella relazione del Presidente della Commissione Tributaria regionale dell'Abruzzo. A fronte di poche novità positive in materia di contenzioso tributario come la previsione della quasi obbligatorietà della condanna alle spese in caso di soccommenza, alla condanna per lite temeraria, all'esecutività della sentenza di primo grado anche nei confronti dell'amministrazione, alle previsioni del giudizio di ottemperanza in forma monocratica, sono invece andate deluse le ragionevoli aspettative di modifica dell'ordinamento, anche per la mancata nuova denominazione dei tribunali e delle corti d'appello tributarie e per la mancata riforma dei criteri di determinazione dei compensi. Già l'anno scorso nella mia relazione ebbi a dire della positività della risposta della giustizia tributaria alle richieste dei cittadini. Quest'anno con soddisfazione posso dire che è confermato questo trend positivo. Mediamente il ricorso nei primi due gradi della provinciale e della regionale vengono definiti entro il termine massimo di tre anni, termine che è sicuramente molto positivo anche confrontato con i termini delle altre autorità giudiziarie. La Filt CGL ha presentato i risultati di uno studio, di un'indagine nei 47 comuni della provincia di Teramo sul trasporto pubblico scolastico. Dai dati emerge una situazione tutt'altro che rosea. Vediamo perché. 10.000 alunni nell'ambito dell'anno scolastico utilizzano il servizio di trasporto in 45 dei 47 comuni della provincia di Teramo. Sono 200 i pulmini che si muovono sul territorio con una vetusta media di 16 anni, dato superiore alla media del trasporto pubblico locale e solo l'1% di essi a meno di 5 anni. Nell'80% dei comuni è prevista una compartecipazione al servizio con prezzi che oscillano tra i 20 e i 180 euro, mentre nel capoluogo Teramo si può arrivare anche a 360 euro l'anno. Sono alcuni dei dati che emergono dall'indagine condotta dalla CGL sul trasporto scolastico in provincia di Teramo. Un rapporto in chiaroscuro dove la zona d'ombra è rappresentata soprattutto dalle gare d'appalto e dalle modalità di erogazione del servizio da parte delle ditte. Sono dei dati molto interessanti. Intanto l'affidamento attraverso le gare viene fatto con un criterio solamente al massimo ribasso. È chiaro che quando fai un appalto al massimo ribasso e assegni un servizio, è chiaro che poi ci sono delle difficoltà anche a riguardo la sicurezza dei bambini. E soprattutto a riguardo anche le problematiche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori stessi. Vorremmo approfittare di questi dati, di questa mole di dati che abbiamo raccolto, anche per dare origine ad un osservatorio che focalizzi maggiormente l'attenzione su questo servizio. E infine un'altra proposta che lanciamo è quella di dare origine a degli appalti in ambito provinciale. Oggi i comuni, i tanti comuni che danno origine a questo servizio agiscono tutti per proprio conto. Si potrebbe iniziare a pensare ad una rete di trasporto scolastico di livello provinciale attraverso convenzioni tra i comuni e con la provincia. Nella minore delle ipotesi noi potremmo fungere da stazione appaltante per i procedimenti di gara. Nella migliore delle ipotesi potremmo pensare anche a organizzare una rete di trasporti di scuola bus integrata su più comuni. A Pescara nasce il coordinamento democrazia costituzionale, obiettivo dare avvio alla campagna referendaria per il no alle modifiche della Costituzione e l'abolizione della legge elettorale Italicum. Si costituisce il coordinamento della democrazia costituzionale. A Pescara si costituisce per parlare di referendum e anche di legge elettorale. Cosa volete mettere in chiaro? Vogliamo mettere in chiaro che la riforma della Costituzione che in realtà è una riscrittura della Costituzione perché riguarda circa 40 articoli modifica sia la forma di governo che da parlamentare diventa attrazione governativa e con questo riduce notevolmente il diritto dei cittadini a partecipare alla vita politica del Paese. Da questo momento in poi quale sarà la vostra attività? Confrontarci con i cittadini che saranno chiamati ad approvare oppure a respingere la modifica della Costituzione attraverso un referendum, confrontarci con i cittadini per illustrare le ragioni del no al referendum. Chi fa parte di questo coordinamento? Siamo di tutte le estrazioni politiche, professionali, ci sono anche molte associazioni che hanno aderito. Diciamo che è un movimento che si riallaccia a tutta una serie di movimenti che ci sono stati anche in passato nella società italiana per la difesa e per lo sviluppo della Costituzione e soprattutto della cultura costituzionale. Al via da domani la venticinquesima edizione dell'evento fieristico denominato Saral Food. Saranno oltre 300 gli espositori che animeranno la quattro giorni a Città Sant'Angelo. Torna anche quest'anno la fiera Saral Food, ci sono novità? Per Città Sant'Angelo è davvero un'opportunità in più considerando che il nostro territorio punta tanto sulla buona cucina, sulla alimentazione e sulla ristorazione. Questo perché Città Sant'Angelo fa uno dei suoi punti maggiori, quello della cultura dell'accoglienza, la cultura della buona cucina e della buona qualità della vita. In questa venticinquesima edizione ci sono tantissime novità a livello convegnistico e a livello di concorsi. Ci sarà il sindacato, il SIB e la FIBA che organizzeranno un grandissimo convegno sui balneatori. Ci saranno i panettieri che faranno dei convegni, ci saranno convegni sulla sicurezza e tantissimi convegni. E poi ci saranno delle gare di barman, delle gare per il caffè organizzate dalla Mocambo e altre iniziative sempre nell'ambito della fiera. In totale quanti sono gli stand? Sono circa 300 stand e 140 espositori da tutta Italia. Siamo diventati il punto d'incontro del centro-sud Italia per quanto concerne il settore dell'alberghiero e della ristorazione. Ed ora apriamo la pagina sportiva in Serie B, un sabato agrodolce perché il Pescara ha perso in casa lo sconto diretto con il Novara per 2 a 1 scivolando al sesto posto in classifica e con il nono posto che è distante appena due punti. Dunque anche play-off a rischio se il Pescara continua a non fare risultato come ha fatto nelle ultime sette partite. Per la Virtus Lanciano invece è stata una giornata trionfante con la vittoria a Salerno per 3 a 1 ma andiamo con il primo servizio relativo alla vittoria del Novara all'Adriatico. 2 a 1 3 a 1 giornata nera del settore arretrato. Gettare però la croce addosso solo a Mazzotta e compagni di reparto non sarebbe neanche bello e giusto. Importante però chiedersi cosa stia accadendo al Delfino, formazione che non vince ormai quasi da due mesi. Biancazzurri in campo con l'ennesima formazione nuova, il Novara con il solito schieramento di Corazzieri e con Gonzales unica punta. Sugli spalti 7 mila spettatori con qualche vuoto di troppo. Al terzo Viola si fa vedere con un tiro violentissimo dai 25 metri che costringe Fiorillo al salvataggio in calcio d'angolo. Al sesto arriva la risposta Biancazzurra con un colpo di testa di Memushai che sugli sviluppi di un corner mette di testa sopra la traversa. Ma all'ottavo su un calcio d'angolo è Corazza di testa a saltare più in alto di tutti e a colpire di testa indisturbato mettendo la palla alle spalle dell'incolpevole Fiorillo. Il Pescara reagisce con rabbia e al dodicesimo la padula in area tira e poi viene forse sgambettato da da costa dopo un rimpallo con pezzuto di lecce che lascia però proseguire fra le proteste Biancazzurre. La dea bendata non aiuta il delfino che è pericoloso anche al quattordicesimo con Benalì che in area nuovarese chiama da costa al miracolo con i piedi. In favore di vento i ragazzi di Oddo attaccano ma rischiano lasciando spazi alla formazione ospite che fa correre un brivido al ventesimo ai tifosi biancazzurri con un colpo di testa mancato in area da Gonzales che non riesce ad incornare. La gara è aperta e vede attacchi dall'una e dall'altra parte con il Pescara che trova il meritato pareggio al ventottesimo con una punizione capolavoro di Caprari che lascia di sasso da costa rimettendo così il match in parità. Per l'ex romanista si tratta della decima rete stagionale. Il Pescara continua ad attaccare al 34esimo e Torreira con un tiro potente a scheggiare la parte esterna del palo della porta nuovarese. La ripresa ricomincia con gli stessi 22 che avevano concluso la prima parte di gara. Al quarto c'è un'ottima opportunità per Torreira che solo davanti a Da Costa alza sopra la traversa ma il Pescara commette degli errori incredibili e così all'ottavo Mazzotta regala un pallone facile facile ad evacuo che non sbaglia riportando in vantaggio la propria formazione per la difesa del Pescara. Prosegue il momento da dimenticare con gli ospiti poi bravi ad addormentare la partita. Al quarto d'ora arriva anche l'ennesimo infortunio di coda che deve lasciare il campo a Zuparic che torna a far coppia con Fornasiera al centro. Intanto trascorrono i minuti per il Pescara che continua ad attaccare. Si avvicina così lo spettro di una nuova amarezza con Oddo che getta nella mischia anche a Costa al posto di Caprari. La squadra di Marco Baroni si chiude ancora più con Dell'Orco che al 36esimo rischia l'autorete prima del tiro alto di Benalì. Si arriva così nei minuti finali quando al 43esimo Gianluca Lapadula alza sopra la traversa davanti a Da Costa poi 5 minuti di recupero e un KO che lascia davvero da pensare alla vigilia della trasferta in casa di un crotone ferito dalla battuta d'arresto di Brescia. Il bello del calcio se qualcuno poco più di un mese e mezzo fa avesse ipotizzato che il Lanciano poteva marciare a ritmo da big e scalare in modo così vertiginoso le posizioni di classifica sarebbe stato preso per pazzo la cenerentola Lanciano non ci sta e gara dopo gara lo sta dimostrando non con una media da playoff bensì un cammino da capolista addirittura un tris a Salerno in una gara che non metteva in palio semplicemente i tre punti ma molto di più. succede tutto nella ripresa tutto condito da una settantina di minuti di affanno ma da un finale scintillante per Maragliulo e i suoi ragazzi tutto in altre parole ancora più bello albero di Natale per la Virtus 4-3-2-1 con Ferrari unico punto di riferimento assistito da Marilungo e Di Francesco cecragno tra i pali capitana Aquilanti torna a disposizione dopo la squalifica Bacinovic con Vitale e il sempreverde ed adattabilissimo Gaetano Vastola a comporre il trittico in mediana la Salernitana di Menichini con Tunkara dall'inizio deve sfruttare il turno interno e l'obiettivo manco a dirlo è uno solo la vittoria 200 i sostenitori virtussini 12.000 quelli a Maranto che popolano la Rechi fischia Serra di Torino subito Campani in avanti quinto minuto accelerazione di coda per Donnarumma si salva il lanciano la Salernitana un'occasionissima con Bernardini che conclude a rete un'azione insistita ma impatta in pieno il palo un minuto dopo dagli sviluppi di un corner Tunkara rimette una palla in mezzo all'area di rigore ma Donnarumma si divora un gol clamoroso 29esimo ancora a Maranto questa volta la conclusione di Bernardini che di piatto non c'entra allo specchio della porta 42esimo si rivede il lanciano con una conclusione di destro di Marilungo ma il suo tiro è alto seconda frazione di tempo quinto minuto palla bellissima di coda che si presenta a tu per tu con Cragno che però è provvidenziale di piede sesto minuto ancora Donnarumma per le vie centrali prova a battere il solito Cragno che compie un altro prodigio e va ad alzare la sfera sopra la trasversale 13esimo sotto il diluvio della Recchi uno spiraglio di sole è accecante e parla i colori della Virtus Marilungo taglia un pallone per Vastola che la catapulta immediatamente al centro dell'area di rigore per Di Francesco che di tacco manda in estasi il lanciano sbloccando il risultato gol bellissimo dunque per l'1 a 0 Fremtano in Campania la Salernitana perde qualche certezza ma non la forza per rimettersi subito ad attaccare 25esimo azione a Maranto con Gatto Bush e soprattutto con Donnarumma che va a concludere ma spreca 28esimo la Salernitana pareggia il prologo del gol lo crea Nalini palla morbida in area di rigore torre di testa di Gatto per Donnarumma che deve solo appoggiare in rete uno a uno con le proteste rossonere per la presunta posizione irregolare di Gatto al momento dell'assist altro affondo decisivo per il lanciano minuto 31 Marilungo colpo di tacco per Di Francesco che scuscia bene e nel tentativo di recuperare la palla impatta le braccia distese in presa bassa di Terracciano rigore per i rossoneri e giallo per il portiere Campano dagli 11 metri è freddissimo Nicola Ferrari che realizza spiazzando Terracciano e riportando in vantaggio i fremtani 43esimo inizia l'assalto Salernitano con una sassata di Gatto ma Cramio c'è pienissimo recupero la Salernitana è sbilanciatissima Ferrari si allunga troppo la palla poi Giandonato disegna la traiettoria vincente per Di Francesco che di sinistro patte per la terza volta Terracciano poi solo tanti tantissimi applausi dei 200 rossoneri alla Rechi e l'intera città a tributare una standing ovation ai rossoneri che stanno facendo qualcosa di incredibile i numeri in 41 giorni di cura a Maragliulo 16 punti su 21 a disposizione conquistati what else in Lega Pro la giornata è stata aperta dal match del Bonolis gara finita senza gol 0-0 tra Teramo e Carrarese per il Teramo due legni colpiti nella ripresa dalle noci e Moreo ascoltiamo il tecnico Vivarini e il tecnico della Carrarese Remondina a volte come oggi ci si mette anche un po' di sfortuna con quei due legni però è indubbio che questa squadra magari non prenderà gol però fa una fatica a segnare tremenda ma sai non è che ti posso contraddire effettivamente fai delle prestazioni veramente alte abbiamo cercato in tutti i modi cercare l'ampiezza abbiamo fatto un sacco di cross sia da destra che da sinistra abbiamo cercato la palla tra le linee abbiamo fatto diversi belli lavori anche lì siamo stati sfortunati perché comunque è un periodo che gli episodi ci girano male perché adesso il palo delle noci è stato clamoroso come quello di Moreo nelle partite non basta fare delle prestazioni di alto livello ma ci vuole il gol e è chiaro che il gol non arriva e pareggiamo Presidente Campitelli ha detto a Vivarini anno prossimo con lo stipendio che ha o se lo riduce o non rimane a Teramo ecco Vivarini che cosa ne pensa? Io sto concentrato sul lavoro mio quello che devo fare a me Campitelli non mi ha detto assolutamente niente io da parte mia mi ascolto solo le cose che mi dice a me le altre cose perché io lo conosco so com'è e quindi sulle altre cose non ci faccio caso Oggi i giocatori nostri a dispetto di quello che è la situazione fuori dal campo hanno dimostrato per l'ennesima volta un attaccamento a questi colori a questa squadra e a questa città veramente notevole per cui merito ai nostri giocatori Finisce qui questa edizione la seconda del TG6 la prossima alle ore 23 grazie per l'attenzione buona serata Finisce qui questa edizione la seconda del TG6 la prossima alle ore 23 grazie per l'attenzione buona serata Finisce qui questa edizione la seconda del TG6 la prossima alle ore 23 grazie per l'attenzione buona serata